La Corte di Cassazione francese ha detto no all'estradizione di dieci brigatisti rossi riparati da anni oltralpe e condannati in Italia per una serie di omicidi ed attentati sanguinosi negli anni di piombo. Confermata così la decisione già espressa nel giugno del 2022 dalla Corte d'Appello di Parigi, nonostante il parere favorevole del presidente Macron, forti le reazioni dei parenti delle vittime. Sono dei disgraziati, decisione vergognosa intervenga il ministro Nordio. Se fosse successo al contrario con le vittime del Bataclan?